. Da Buan, Muguruza e Pliskova ai quarti, fuori la Radvanska. La quiete dopo la tempesta. Mercoledì di conferme a Buan, Muguruza e Pliskova prodano ai quarti, seppur in modo diverso. La cieca, dopo un avvio altalennante con la Zan, supera il secondo esame asiatico, travolgendo in due set Chiang Bang, 62-61. . 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 Guardarsi da Shlaig Barty, piacevole rivelazione a Wuhan. L'australiana, 21 anni e un talento abbagliante, ferma il ritorno al vertice di Agnes Karadvanska. Si tratta del terzo sigillo pesante per la Barty, dopo quelli con Belli se conta. Dalle qualificazioni al quarto turno, la settimana magica della Sakkari sembra non conoscere fine. Al secondo turno, W con la Wozniaki, a seguire una vittoria di spessore con la Vesnina. Perfetta la greca al tramonto dei due parziali. Infine, il derby russo premia la Makarova. Kazatkina KO 64-64. Grazie.